Un ordine del giorno per chiedere maggiore sicurezza nei pressi delle scuole, soprattutto a Colle Sapone, a salvaguardia di alunni e docenti, lo ha presentato il consigliere Lorenzo Rotellini. Con il documento si chiede l'istituzione di nuove zone 30 e attraversamenti pedonali rialzati. L'iniziativa arriva dopo alcuni incidenti avvenuti in zona e su sollecitazione dei cittadini, ma l'attenzione va posta su tutte le scuole. Questo è un ordine del giorno che viene scritto dopo le varie sollecitazioni di studenti e genitori, ma anche dopo i recenti fatti di cronaca e quindi l'incidente avvenuto davanti alla questura. È un ordine del giorno che chiede esattamente già alcune cose che sono presenti nel piano urbano della mobilità, quindi del PUMS, ovvero l'istituzione di nuove zone 30 davanti a tutte le scuole di ogni ordine e grado, ma anche degli studi di fattibilità per la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati. Questo connubio può essere utile per far sì che gli automobilisti rallentino in prossimità delle scuole e anche per mettere in sicurezza gli attraversamenti pedonali e quindi mettere al sicuro tutti quanti gli studenti all'uscita e all'entrata delle scuole. Ma è un ordine del giorno che guarda non solo alle scuole ma anche alle zone della questura, la statale 80 davanti alla casa cantoniera dove c'è una fermata molto frequentata dagli studenti, soprattutto del liceo classico Domenico Cotugno.